Quarta corsa, premio Darif F, un miglio per anziani di categoria E ed F, sono in 10 al via dopo ritiro del numero 3, MyGriff. La prima fila per Little Games, Gaetano Di Nardo, Riente Trio, Marco Stefani, Orosco Perrico Bellè, Inives con Antonio Masciullo in sostituzione di Lucio Becchetti, Netturio Siriar, Warner Martellini, Pintato Jet, Francesco Cincinnato, seconda fila per Nira One con Giuseppe Faruolo, Patatracfez, Giuseppe Cerrone, Olinda Jet con Dario Battistini che sostituisce Antonio Di Nardo e Mondial Gar con Giampaolo Minucci. Lottano per il comando i cavalli all'esterno e in particolare Nives, Netturio Sirial e Pintato Jet con Nettuno Sirial che sopravanza Nives, quest'ultima rientra all'interno e completa il lancio in 13,5 per essere leader su Nettuno Sirial mentre lungo la corda rinviene Little Games che costringe a largo Pintato Jet dalla seconda fila sollecita Nira One che ha in fuori oroscopo, quindi Patatracfez che ha all'esterno Oriente Trio, ancora in coda un'altra coppia composta da Olinda Jet e Mondial Gar. Sullo slancio Nives fa mezzo giro in 35,8, si è scatenato in avanti Nives con Antonio Macciullo, il mezzo giro iniziale sul piede dell'1,11 e i 600 in 43,5, quindi cerca ora di moderare il ritmo, riesce a farlo solo parzialmente e ci sono due lunghezze di vantaggio per Nives nei confronti di Nettuno Sirial, quindi Little Games Pintato Jet che si sta esaurendo all'esterno e costringe Oroscopo a muovere deciso in terza ruota mentre Nives allunga ulteriormente e si mantiene in larghissimo vantaggio quando mancano 650 metri al traguardo, ci sono 5 lunghezze di vantaggio per Nives mentre Oroscopo fa il suo sforzo in terza ruota ma ha subito l'anticipo di Little Games, si sposta dalla corda Nira One mentre sta calando Nettuno Sirial, cerca di avanzare in terza ruota anche Mondial Gar che ha all'interno Patatracfez e nella scia Oriente Trio. Il vantaggio di Nives però è ancora molto netto perché completa i primi 1200 metri in 1,28 e 1 mentre in terza ruota avanza Mondial Gar all'esterno di Little Games e Oroscopo, poi Nira One, Nives affronta ancora il larghissimo vantaggio, la retta d'arrivo, mancano 250 metri al traguardo, fra gli altri cerca di emergere a centropista Mondial Gar che ha superato Oroscopo e anche Little Games, Nives è ancora in chiara evidenza, Mondial Gar si lancia il suo inseguimento dopo aver superato Oroscopo ma il traguardo è vicino, Nives è stanca ma è ancora in larghissimo vantaggio su Mondial Gar e Oroscopo, vince Nives nei confronti di Mondial Gar, Oroscopo e Nira One. 5-11-4 l'arrivo ufficioso della quarta di Capannelle con fuga in avanti, riuscita Nives Antonio Masciullo, 1,59 sul mio cronometro, media di 1,14-4. Stanca nel finale l'allieva di Lucio Becchetti ma il vantaggio era amplissimo e ne ha conservato buona parte, Mondial Gar ha recuperato molto bene dalla coda del gruppo, oggi ottimo Mondial Gar ma si è dovuto accontentare della piazza d'onore superando il favorito Oroscopo dunque 5-11-4 l'arrivo ufficioso della quarta di Capannelle. Grazie